Ciao, mi chiamo Silvana e sono una life coach e ho deciso di partecipare al corso proposto da Elisa, le 5 leve e 5 fulcri di un'attività che funziona, un po' perché mi ha incuriosita questo titolo, perché pur avendo partecipato ad altri corsi di business non avevo mai sentito parlare di fulcri e poi perché è un po' che segue Elisa e quello che lei propone mi piace, per cui mi sono incuriosita e ho partecipato a questo percorso che devo dire è stato molto molto ricco, mi ha dato più di quello che mi aspettavo, tantissimi spunti, suggerimenti ma soprattutto concreti e ecco una delle cose che mi piace di più di Elisa e oltre ad apprezzare la sua grandissima preparazione ma ha una particolare capacità comunicativa, cioè ha il dono della sintesi e soprattutto la capacità di spiegare concetti complessi in modo semplice, comprensibili, assuminabili e questo è un grandissimo dono che non tutti hanno, quindi io riconosco e le faccio i complimenti e poi ho avuto molta più chiarezza quindi di quello che è insomma il lavoro da fare per implementare un business di successo dove io per successo intendo la capacità di far succedere quindi di far accadere delle cose quindi anche delle trasformazioni importanti che portano poi beneficio a tutti naturalmente. Ecco se avessi avuto questo percorso, questo corso prima di qualche tempo fa insomma prima di intraprendere altri percorsi probabilmente avrei risparmiato tanta fatica, tanta confusione che mi ha portato poi anche un po' a rallentare il mio business. Quindi ringrazio Elisa per questa apertura, per questi inside veramente utili e ho preso consapevolezza che sicuramente vorrò farmi accompagnare da lei per crescere di più, insomma crescere di più nella mia attività, nel mio business e soprattutto farlo con più leggerezza, con meno fatica e che non vuol dire meno impegno ma con la tranquillità di affidarmi a una professionista molto competente e molto empatica devo dire anche quindi grazie Elisa per questa l'opportunità. Grazie a tutti.